I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce hanno chiesto alla procura di Taranto di emettere un sequestro per lo stabilimento siderurgico motivato dall'esigenza di bloccare le attività che determinano l'emissione di agenti inquinanti e quindi con il chiaro obiettivo di garantire una reale tutela della salute dei cittadini. I militari ininterrottamente per 40 giorni hanno ripreso l'emissione di gas e nubi rossastre. Sono state filmate e fiammate dalle torce delle acciaierie che bruciano in particolar modo durante la notte. Esperti nei prossimi giorni si occuperanno di effettuare opportune perizie sul tipo di sostanza che viene emessa. La procura ionica intende aspettare l'esito delle indagini chimiche ed epidemiologiche. Il clamoroso provvedimento richiesto dai militari del NOE scatterebbe se a seguito delle perizie dovessero emergere dati allarmanti al punto da non dover essere più accettabili. Settimana intensa quella che si è appena chiusa anche per Arpa Puglia che insieme all'asl di Taranto ha effettuato all'interno dell'ILVA il campionamento delle emissioni nocive. È stata infatti avviata lunedì scorso una campagna congiunta che si è conclusa venerdì mattina. Questi controlli consentono per la prima volta di avere un quadro preciso relativamente all'esposizione del personale della cocheria alle emissioni di IPA, idrocarburi policiclici e aromatici. Oggetto di attenzione non soltanto l'esposizione di un gruppo di lavoratori notoriamente ad alto rischio ma anche l'apporto delle emissioni alle concentrazioni di benzopirene nell'area urbana adiacente allo stabilimento ILVA. Aspetto questo messo in evidenza dal direttore generale dell'ARPA Puglia Giorgio Assennato. Ancora un altro impegno per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente nella regione Puglia che entro il prossimo 30 giugno dovrà portare a termine il monitoraggio straordinario di IPA e benzopirene in sette stazioni dell'area industriale Tarantina. Un controllo questo effettuato su indicazione della regione Puglia e che ha riguardato anche altre aziende come Leni e la Cementier. La campagna congiunta per il campionamento ILVA è solo una delle numerose iniziative avviate dall'Asla di Taranto e da ARPA Puglia per mettere al primo posto finalmente la salute dei cittadini.